Dunque noi siamo qui fondamentalmente perché c'è una legge dello Stato, la legge numero 211 del 2000 che istituisce il giorno della memoria e quindi praticamente se tutti i 27 di gennaio ci troviamo a parlare di qualche cosa è per questo motivo. Quindi sapete che il 27 gennaio Auschwitz è stata liberata dall'esercito dell'armata rossa e da lì è nata una storia, una storia che poi vedremo per quello che posso capire io e magari poi lo condividerete anche con i relatori, ha poi dipanato tanti effetti di cui oggi apparentemente sembrano lontane, l'oggetto della discussione di oggi può sembrare lontano ma in realtà siamo in un effetto di causalità storica abbastanza determinato. 27 gennaio l'armata rossa ha liberato Auschwitz. Il 29 novembre del 1947 con la risoluzione numero 182 l'ONU istituiva lo Stato di Israele. Che cosa accadde? La prima razio, la creazione di questo Stato era quella di un risarcimento sostanziale per quello che era stato scoperto, per quello che avevano scoperto i russi, per quello che sapevano gli americani da tempo perché avevano fatto delle rilevazioni e sapevano benissimo che ci fosse quello che stava succedendo ad Auschwitz. Comunque la politica decise questo, la politica fu uno dei primi atti delle Nazioni Unite per come le conosciamo oggi. Per cui si stabilì che ci fosse questo Stato. Ora, lo Stato di Israele e da lì è nata tutta una vicenda di tensioni che come sapete non è risolta neanche oggi, per cui quelle che sono le dialettiche tra lo Stato di Israele e i paesi arabi sono una costanza. Questo per dire che ci sono due piani ragazzi, c'è uno etico-morale dal quale non possiamo mai prescindere, cioè guai se qualcuno di noi si dimentica ogni giorno di quello che è successo all'assurdo. Qualcuno di voi è stato a Auschwitz ragazzi? No. Andateci. Andateci perché vale la pena di... chi non va lì non capisce, va bene? E oltre a Auschwitz vi consiglio anche Birkenau che sta lì vicino. Comunque questo è. Eravamo in una situazione multipolare, c'erano più centri di potere. Poi dopo la Seconda Guerra Mondiale la situazione è diventata bipolare. C'erano gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. C'erano anche paesi cosiddetti non allineati ma sostanzialmente non avrebbero un ruolo più di tanto diciamo così decisivo. Quindi fino all'89 lo scacchiere medio orientale era gestito tra questi due grossi poli. Stati Uniti e Unione Sovietica, non Russia, Unione Sovietica. Ora la situazione si è evoluta. Il bipolarismo non c'è più. Stiamo tornando verso una sorta di multipolarismo dove sicuramente ci sono gli Stati Uniti, sicuramente c'è la Russia ma c'è anche un nuovo ruolo dal mio punto di vista di una sorta di neottomanesimo. Cioè la Turchia che sta diciamo riprendendo a livello sia economico che politico una forte sfera di influenza. C'è poi l'Iran che ha assunto un peso politico sempre più importante. Quindi già siamo grossomodo possiamo riconoscere quattro attori. Con lo Stato di Israele che è piccolo ma c'è una forte capacità militare e poi ha sempre dietro diciamo non dimentichiamo che a Gerusalemme c'è il centro di dipanazione di tutte le grandi religioni monoteistiche che sono l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam, e la religione musulmana. Quindi abbiamo un quadro molto complesso. Quindi se oggi ci troviamo a parlare di questo con persone che conoscono direttamente, che stanno studiando, che hanno vissuto questa esperienza, ecco non dimentichiamo le relazioni che legano tutti questi aspetti. Dimenticare che quello che ci succede attorno poi riguarda la fine anche noi quotidianamente è una cosa importantissima. Ma attenzione, ricordiamoci che i due piani, quello etico-morale che ci impone, ma non il 27 gennaio, tutti i giorni. Io penso che se ognuno di voi se svegliasse la mattina e pensasse, immaginasse solo un attimo di aver fatto la vita dei prigionieri dei campi di concentramento forse sarebbe una persona diversa. Ma sappiamo che poi quello non è un atto sconsiderato, è frutto di relazioni politiche, di ideologie che poi si materializzano nella politica un po' concreta. E anche oggi noi andiamo a vedere come questa serie di eventi poi stia determinando una serie di relazioni e di sviluppi che abbiamo quantomeno il dovere di seguire attentamente ogni giorno.